Abbiamo scelto TuttoFood dalla prima edizione, abbiamo creduto da subito in questa fiera Stiamo andando molto bene, al TuttoFood ci sono tanti stranieri quest'anno rispetto alle edizioni precedenti, abbiamo visti tanti Sempre di più Milano al centro e sempre di più a livello internazionale legata al cibo Gente interessata, molto curiosa e attenti alla qualità Tantissima affluenza, di livello professionale molto alto Abbiamo avuto contatti nuovi, anche contatti esteri, per cui non posso che dirle Che sono soddisfatta